ciao a tutti ragazzi sono al negozio di trail bike che mi hanno venduto questa sella e che assomiglia alla pro modello steel a 29 euro per provarla allora io ho tre tipo di sella che devo provare una lsmp il modello vt30 l'altra è la sella italia il modello mi sembra che sia lms l3 e poi c'è sta la still appunto della pro che uguale a questa io adesso faccio una prova perché me l'ha consigliata un amico davide mancini lui ci ha fatto l'everesting con questa sella vediamo se adatto tanto costa 30 euro 29 euro casomai te la rifi la te davide ok vediamo che sensazioni mi dà questa sella è una sella corta e credo che sia 25 25 per 140 non so qua se c'è scritto la sella è da cota venite al negozio se la dovete comprare questo negozio che si chiama ripetiamo trail bike trail bike ciao a tutti ragazzi ci vediamo al prossimo video